Ed eccoci alla Cispa del Prometeo, un programma dedicato all'arte, alla letteratura, alla storia, come no, anche alla musica e a tante cose belle. Oggi Cecilia Scrittore e Beneviete siamo qui in compagnia di Rachele Colombo. Ciao a tutti! Ecco, ci racconterà delle cose veramente meravigliose che molto hanno a che fare con questa stagione della Cispa del Prometeo che segue le tracce di Goethe. Per l'Italia del Settecento. Ma prima la sigla e poi torniamo e chiacchieriamo con Rachele Colombo. Ed eccoci qua, come dicevamo, con Rachele Colombo. E' un cantante, compositrice, suona un sacco di strumenti, fa un sacco di cose belle. E' veramente una persona difficile da classificare perché è un po' il destino di chi fa ricerca, no? Esatto. Chi cerca cose nuove, chi cerca... Chi cambia sempre pelle. Chi cambia sempre pelle, quindi chi ha l'anima dell'artista è difficile da... Da circoscrivere. Brava! E quindi raccontaci un po', chi è Rachele Colombo? Allora, chi sono? Sono, diciamo, come dici tu, un'artista curiosa fondamentalmente. Piena di voglia di cercare e di capire anche l'interconnessione che c'è fra le varie arti, fra i vari linguaggi e anche trasversalmente alla storia e alla contemporaneità. Quindi diciamo che come tutte le persone sono partita così, da piccola suonando per diletto così. Non ho una formazione accademica, ma tanta passione che mi ha portato a tanti incontri, a tanti scambi. E ho imparato rubando con gli occhi, ascoltando con la pancia. Ascoltando con la pancia, che bello! E quindi strimpellando vari strumenti, mi sono fermata di più sulla chitarra, in certi periodi un po' così sulle tastiere, poi percussioni, ma soprattutto partendo da quello che è stato il movimento, se vuoi, anche giovanile, degli anni, nel mio caso, anni 80, così, partendo dalle Garage Band, dalla New Wave, da quello che è stato poi, sono entrata nel mondo della world music e innamoratami un po' di questo linguaggio delle musiche dei popoli, che per me sono un viatico di verità, anche di sintesi di quelli che sono gli elementi dell'umano. Sono approdata un po' attraverso anche un grande incontro a quella che poi è stata per me la musica veneta. Attraverso l'incontro con il gruppo di Folk Revival Calicanto nel 97, ho potuto così imbracciare questa strada di ricerca in tutto quello che è stato la musica dell'area veneta. Quindi fino, diciamo, anche alla costa della Croazia, della Dalmazia, in tutto quello che è stato anche il territorio veneto, occupato anche dai veneziani, eccetera. Quindi un'indagine che mi ha portato a capire che dopo aver fatto il giro del mondo avevo bisogno di trovare quale era il suono della mia terra. Perché mi sono trovata di fronte a delle persone che mi hanno chiesto ma cantami una canzone di quelle che tu ricordi di quando eri piccola, così, se ti trovi di fronte a un africano, eccetera, te la sai cantare anzi. E molto spesso, è molto antica anche. Eh sì, ma questo è vero, a me è capitato una volta. Una cosa che mi ha stupito moltissimo, mi ha insegnato molto. Quando vivevo in Cina, facendo un viaggio nel sud della Cina, un posto dove loro, cioè il mio mandarino era terribile, ma dopo il loro mandarino pure, quindi non c'era lingua in comune, e mi ricordo che per conoscerci, per capirci, c'erano queste signore, queste anziane, che mi hanno detto cantami una canzone di Culla, una nina nanna del tuo paese. E questo era il modo di capire un po' chi sei. Ed è molto bello perché è quello che nasconde la musica, è quello che porta con sé. Certo, questa è la cosa che è la domanda fondante anche, perché l'identità passa attraverso la voce, anche la prima espressione profonda, no? E quindi appellarti al tuo suono, al tuo canto, per me è stato fondamentale, soprattutto quando ho capito che in realtà è arrivato un amico volante. Siamo nella campagna padovana e questa è la fauna locale. Sì, in realtà io mi sono sentita orfana di questa cosa, cioè mi sono resa conto di vivere in un luogo che aveva ormai veramente fatto a pezzi, sfilacciato questa memoria. E per anche delle motivazioni storiche, non da meno la chiesa che già appunto nel secolo scorso aveva proibito anche i balli e i canti, anche in chiesa, eccetera. E poi anche una sorta di, per quanto riguarda l'area veneta, una sorta di atteggiamento interiore del popolo veneto che è stato quello un po' di essere, con questa visione di essere un po' sottomesso, di essere un po' servo del padrone, difficilmente sindacalizzabile, molto votato alla... Però questa sottomissione ha creato come la rabbia di riscatto che per conto mio è passata solo attraverso poi un arricchimento smodato e privo di un reale, diciamo, contatto con la memoria. Certo, perché avrebbe potuto portare a un orgoglio per cui magari ci potevamo aspettare che le cose popolari fossero quelle abbracciate per rivendicare qualcosa. Invece, in realtà, sì, anch'io essendo veneta, sento che l'orgoglio veneto è quello che tu dici, è solo in un senso più effettivamente materiale. Sì, è un veneto che ha reciso, che ha creato una frattura profonda con la civiltà contadina, avendone un senso di vergogna. Sì, sì. Questa cosa qua ha creato una spaccatura profonda nell'identità e quindi ha dovuto poi cercare nel tempo e mutuare altre culture esterne cercando di deviarle nella propria. Quindi abbracciando magari anche, reinventando la storia, reinventando una cultura, una tradizione. e anche per farne anche un manifesto politico a volte, no? Certo. Io mi sono trovata appunto a dover rendermi conto che questo canto della mia terra era veramente povero e ormai morente. Con Calicanto abbiamo fatto, che già esisteva questo gruppo da moltissimi anni, dai primi anni Ottanta, abbiamo così intrapreso subito un percorso di ricerca quando sono entrata io, che ero la più piccola all'epoca, quindi portavo la modernità. Quindi una contaminazione forte. È stato un progetto, il primo, che abbiamo fatto su Venezia, quindi anche molto di provocazione per tutto quello che è l'aspetto di mercificazione di questa città. Quindi un lavoro anche musicalmente profondo, però tutto questo per dire che io da lì ho messo dentro di me il seme di questa voglia di cercare continuamente questo mio modo di reinterpretare questo rapporto con l'identità. Nel tempo ho fatto anche altri percorsi, altri progetti, tra cui anche Arche d'Ora, che nasce un po' dalla collaborazione mia con Corrado Corradi, un membro di Calicanto, sempre di tradizione e innovazione della musica veneta, come ponte anche fra Oriente e Occidente, fra il rapporto con il dialetto veneto, con la lingua come suono della parola, come volontà di mantenere un suono che potesse essere in qualche modo come se fosse il colore che sta nella tavolozza dell'umanità. Se tu togli quel colore, togli anche un pezzo dell'arcobaleno, no? Assolutamente. Quindi mi sono sentita strada facendo anche una sorta di folle responsabilità di poter essere in qualche modo almeno una delle poche che rappresentassero questa realtà. E mi sono resa conto, girando il mondo, poi che questa realtà ha bisogno di essere rappresentata, sia da parte di chi ci abita, ma anche di chi da fuori vorrebbe vedere rappresentata la propria terra. Con tutte le interpretazioni del caso, insomma. Quindi è stato un viaggio molto sofferto pensando a questo mio filone della musica veneta e lo è tuttora, perché appunto molto in solitario, anche se si vuole, molto pionieristico, che mi ha portato poi a creare un altro progetto con una fusermonicista francese però di emigrazione, cioè di origine veneta, il padre, che abita a Venezia, Miranda Cortez. Abbiamo fatto un disco che anche questo è stato poi da ponte, sempre tra la contemporaneità, ma allargandoci di più ad uno sguardo più anche sulla musica a 360 gradi, con inserti di musica rinascimentale, musica contemporanea, qualche accenno di jazz, però sempre con testi in Veneto, quindi un ulteriore percorso ancora, sempre molto in salita comunque. Le cose facili sembrano che non ti piacciono. Però devo dire insomma che anche lì è stato un percorso proprio anche dentro le radici più profonde e sottili, anche nel Veneto c'era anche un momento di crisi profonda, anche da parte di quello che è stato così il fenomeno della caduta, dell'arricchimento del nord-est, quindi anche il fenomeno, non so, degli imprenditori che si suicidavano, cioè quindi questa caduta anche vorticosa che conosciamo molto bene e di cui ne vediamo tuttora, questo abbruttimento anche, lo scempio del paesaggio e quant'altro. Tutto questo per approdare però al motivo per cui mi avete chiamato oggi qui. Sì, stiamo incuriosendo sempre di più tutti perché... Infatti, perché noi in realtà facendo un po' di ricerca perché siamo arrivati a Rachele Colombo? E qua dobbiamo mettere un po' in contesto i nostri ascoltatori. Allora, nel viaggio di Goethe in Italia lui a un certo punto arriva a Venezia, come abbiamo già sentito nella puntata veneziana, lui arriva a Venezia e portava con sé questa storia che aveva letto da Rousseau, il filosofo, di questi canti che facevano i gondolieri ed erano canti nei quali loro utilizzavano appunto i versi del Tasso e dell'Ariosto ed erano canti di botte e risposta, cioè dei gondolieri da un lato all'altro del canale si facevano questi versi e così. E quindi questo ci ha aperto tutto un mondo di curiosità perché noi di questi canti non ne sapevamo assolutamente niente e cercando su tutto questo mondo musicale sull'acqua che c'era a Venezia troviamo che in realtà è veramente un universo musicale che c'era sull'acqua perché non sono solo i gondolieri che fanno questi canti di queste storie. Ma abbiamo trovato anche che i pescatori e le mogli dei pescatori quando questi gondolieri dicono ma dovresti vedere che bello è quando i pescatori vanno in mare e come cantano le donne loro sono veramente brave e quelle sì che sono brave altro che i gondolieri quindi ci si apre veramente un mondo musicale nella Venezia del Settecento perché già quando Goethe viaggia nell'86 del diciottesimo secolo quando lui già viaggia in Venezia questa è una cosa che si sta un po' spegnendo e quindi sulle tracce di questa ricerca insomma su queste musiche meravigliose noi incontriamo Rachele Colombo che ha fatto proprio un lavoro di ricerca su questo e ci siamo veramente innamorati perché abbiamo devo dire che siamo partiti da quello dopo abbiamo ascoltato tante cose del tuo lavoro non solo di questo e ci siamo veramente innamorati perché è veramente una musica fatta con tanto cuore grazie e quindi hanno detto no ma noi questa donna la dobbiamo conoscere ma la dobbiamo far conoscere a tutti i nostri ascoltatori e io sono felice di conoscere voi è stato un incontro bellissimo e quindi appunto hanno detto no ma ci deve raccontare un po' questo mondo delle canzoni da battello del Settecento Veneziano allora guarda la canzone veneziana diciamo che è un mondo a parte rispetto tutto quello che può essere magari il canto dell'aria veneta e anche perché bisogna inquadrare Venezia per quello che è stata anche musicalmente nel Settecento quindi era uno dei era l'ombelico del mondo cioè a Venezia non solo appunto c'erano forse tra i più bravi gli utai e costruttori di strumenti ci sono stati dei grandissimi compositori ma era proprio un luogo di passaggio di incontro di tutti i musicisti Venezia era ricchissima di teatri all'epoca capitale teatrale e musicale si stampavano anche fisicamente i libri e anche i manoscritti quindi c'era nell'aria un popolo che sia dal basso che dall'alto usava la musica come mezzo di come linguaggio di comunicazione allora a partire da quella che era la vita nelle calli, nei campielli, nelle piazze nei campi tutta la quotidianità del veneziano si svolgeva e si attraverso l'urlo dei venditori il canto delle donne in strada le passeggiate al fresco in barca quindi con l'orchestra che suonava e tutti i musicisti, le cantanti quindi molti livelli i concerti i concerti poi per il doge e tutta una serie di cose feste, a ballo quindi trasversalmente proprio allora Goethe diciamo che arriva un po' tardi nell'ultima parte del Settecento a riportare una delle tradizioni ormai in disuso che era quella appunto anche dei gondolieri di cantare il tasso i versi del tasso erano conosciuti anche dal popolo è un po' come le opere le aree d'opera che anche dalle persone comuni comunque già negli anni 30, 40, 50 erano sulla bocca anche del fornaio infatti quindi anche loro comunque risentivano l'aria era anche di il livello musicale era così elevato che anche dal basso comunque c'era una consapevolezza ed un uso sia della voce che anche dei testi che era comunque di un certo livello culturale se lo confrontiamo adesso poi perché adesso purtroppo penso che abbiamo purtroppo è grazie al cielo cioè nel senso abbiamo un accesso talmente facile alla musica che in realtà non ci consideriamo noi stessi capaci di produrre musica la musica è una cosa dei musicisti la pittura è una cosa dei pittori invece Goethe quando viaggia lui si deve fare i disegni perché non ha le fotografie se non disegna un paesaggio lui quel paesaggio fra vent'anni se l'ha dimenticato lo ha perso non lo può fotografare e la musica è uguale cioè se si voleva avere musica bisognava cantare perché era tutto qui e ora finita la musica finiva diciamo che c'erano i canti che potevano essere quelli lagunari di laguna quindi che erano magari si spostavano più tra le isole tra Chioggia Pelestrina eccetera che erano i canti di pescatori che potevano essere delle nenne o comunque canti d'amore o le famose peregrinazioni lagunarie però diciamo oppure anche il canto dei battipali famoso che era quello il canto dei lavoranti che praticamente si occupavano di piantare questi pali nella laguna per fare praticamente la foresta sotterranea di alberi che avrebbe poi permesso di costruirci sopra quindi c'era questo maglio che batteva oh giovanotti e di bel valore oh ok quindi ogni volta che battevano canti dei pescatori gli anguelanti eccetera però diciamo che gran parte del repertorio veniva in realtà veniva tra i canali e nelle nelle calli nelle nelle piazze un genere ed è il genere di cui mi sono occupata io in questo lavoro particolare che è stato molto in voga tra gli anni 40 50 con degli strascici fino agli anni 80 del 700 sono stati appunto quelli che venivano nominati come canti da battello canzoni da battello arie da batteo cioè che cos'erano non erano diciamo i canti dei gondolieri quelli del tasso eccetera era un repertorio che all'epoca era la popular music diciamo che per le strade si poteva ascoltare era una specie di jukebox che raccontava la vita contemporanea di chi viveva e quindi chi faceva questi canti erano potevano essere o cantanti così che erano autoimprovvisate cioè persone del popolo donne oppure potevano anche essere cantanti un po' più strutturate ma che su commissione potevano magari cantare durante le feste o nelle serenate o durante il carnevale soprattutto anche queste canzoni hanno avuto un successo incredibile ed esistevano poi dei manoscritti esistono dei manoscritti che sono stati tutti di autori anonimi infatti perché viene da chiedersi da dove è originata questa musica nel senso qualcuno la poteva leggere era scritta da qualche parte allora esistevano queste specie di fogli volanti in qualche modo che si sono conservati tuttora nel museo nei vari musei diciamo veneziani il museo della Marciana Correre eccetera e in alcuni musei dell'Istria qualcosa in Inghilterra e in altre parti del mondo però sostanzialmente erano perché di autori anonimi un po' perché erano anonimi magari veramente ma un po' perché erano talmente considerati un genere minore che probabilmente ci sono state anche delle firme di qualche compositore che però si vergognava un po' a mettere il proprio nome poi in alcuni passaggi si evince anche l'idea che ci fosse una specie di copia in colla con dei frammenti di opere che giravano allora e che quindi in alcuni casi insomma venivano anche raffazzonato un po' il coso fatto sta che però di fatto questo genere ci riporta dei manoscritti che sono comunque deliziosi e di livello alto rispetto a quello che poteva essere la consapevolezza che possiamo avere oggi musicalmente risentivano fortemente della musica colta e venivano interpretati dal popolo molto spesso a voce nuda o con chitarra magari dell'epoca o qualche violoncello qualche violino eccetera gli inglesi si innamorarono follemente di questo genere tanto che lo esportarono anche in Inghilterra e cantavano questi canti nei salotti col pianoforte in maniera anche allucinante perché vi potete immaginare la pronuncia che potevano avere questi qua da come certi cantanti vivici ancora oggi allora che cosa è successo io voglio così presentarvi questo che è il disco lo voglio far vedere non so magari se lo vedono comunque adesso lo mostrerò in dettaglio adesso c'è una foto sullo schermo si vede la copertina del disco e quindi che cosa è successo è che avendo conosciuto questi canti ho pensato di restituirli in una nuova riproposta che però potesse avere diciamo un valore comunque in realtà di indagine su quella che era veramente l'anima e la veracità di quei canti Guglielmo Pinna che è un amico e che è praticamente uno che si interessa di di etnomusicologia di danze popolari ha studiato molto le danze del Veneto si interessa di musica antica ha per anni ritrascritto al computer diciamo questi questi che sono i manoscritti che sono contenuti in questo librone bellissimo bellissimo che la regione Veneto fece nel 90 negli anni 90 è introvabile ormai però in realtà sono semplicemente le fotografie di tutti i manoscritti che finora sono stati rinvenuti di questi canti sono oltre 500 canti quindi è un corpus che forse anche più grande della canzone napoletana caspita questo questo vuol dire molto quindi noi abbiamo qui tutti i i manoscritti che ci hanno permesso di poter reinterpretare queste canzoni allora Guglielmo appunto si è occupato di ritrascrivere con grande pazienza tutte e insieme a lui abbiamo estratto 42 di questi canti un'opera che non aveva mai fatto nessuno perché questi canti sono stati sono tuttora interpretati ma in una rosa di un certo numero alcuni magari anche in forma più strumentale ma soprattutto l'approccio è sempre stato quello del canto lirico con accompagnamento molto spesso di pianoforte o di clavicembalo eccetera quindi restituendone un approccio un po' colto dal mio punto di vista ma soprattutto la cosa che più mi ha colpito è che non sono mai stati così tanto amati perché cantati con la voce impostazione lirica non si capisce nulla del testo molto difficile è come l'animale all'ozono e in più con questo approccio un po' colto sono sempre rimasti nella cultura veneziana molto molto snobbati molto lasciati negli archivi ad impolverarsi è stata quindi una grande scommessa poter ridare una vita a questi canti come ho pensato di ridare vita dal mio punto di vista con il mio sguardo che è lo sguardo di chi non è veneziano perché io non sono nata a Venezia non vivo a Venezia quindi è lo sguardo di chi da fuori con la propria visione la propria reinterpretazione e con questa cultura e amore per questa musica può restituire con una musica con una voce la mia che non è di impostazione lirica quindi ho dovuto cambiare anche le tonalità e e quindi far capire i testi perché con la mia voce si riescono a capire meglio i testi testi che io reputo importantissimi perché sono un affresco proprio della vita veneziana quindi ci sono brani che sono dedicati alle arti ai mestieri quindi proprio e molto spesso c'è questo questo sfondo erotico sensuale che passa attraverso appunto in maniera metaforica e figurata attraverso le arti e i mestieri come sempre approccio all'amoroso infatti questa vita proprio vissuta veramente fino alle budelle traspare tutta questa tutta la la sensualità della venezia del settecento con la punta anche di decadenza che già si intravede anche poi che l'ha portata appunto alla sua fine ma una vita vissuta chiassosa grassa una vita quindi molto colorata molto piena di dinamiche di picchi allora noi adesso facciamo una piccolissima pausa tecnica e torniamo subito ed eccoci tornati da questa piccola pausa siamo veramente incantati incantati perché Rachele ci sta facendo scoprire un mondo un mondo tremendo proprio adesso durante la pausa dicevamo è incredibile perché uno pensa sempre alla canzone napoletana e pensa come uno dei repertori più grandi pensare che il repertorio veneto sia paragonabile ci stupisce tantissimo e quindi soprattutto perché capiamo quante cose non sappiamo o dimentichiamo e perdiamo nella strada se lo si vede da fuori diciamo che io dico sempre che è un piccolo patrimonio dell'umanità è da protetto come ben intangibile insomma come diciamo che non ha avuto fortuna finora proprio perché non c'è stata la volontà di reinterpretarlo di capire ma anche perché forse perché c'è talmente tanta musica ma poi ci sono anche delle ragioni magari che vi spiegherò più avanti tornando al fatto dei manoscritti la cosa interessante è che questi manoscritti appunto come vi ho detto sono di autore anonimo e sono e riportano sostanzialmente solo la melodia quindi a volte c'è una piccola traccia di basso continuo ma sostanzialmente solo la melodia quindi io ho in qualche modo ricostruito la parte diciamo degli accordi che ci stavano sotto a gusto mio certo e quindi ho cercato di dare in punta di piedi proprio senza di non tradire quella che secondo me era l'essenza di questa cosa qua appunto anche con uno sguardo anche con Guglielmo Pinna e anche con Paola Barzan che è questa mia cara amica ma etnomusicologa dell'Università di Padova che da anni anche lei si occupa appunto della musica veneta indagandosi ai canti da battello ma anche si è occupata molto del repertorio polesano che infatti ha ritrascritto un po' tutta una ricerca che all'epoca aveva fatto Sergio Liberovici negli anni 50 anche lì si rintracciano poi degli elementi che si avvicinano in certi proprio frammenti alla venezianità tornando a noi appunto io ho ritrascritto questi accordi e siccome i testi sono spesso anche molto lunghi ci hanno molte strofe abbiamo scelto ho scelto le strofe che mi mi sembravano più interessanti più che potevano restituire un senso perché sennò diventava anche lì troppo lunga perché questi canti servivano anche descrivano un tempo molto lento cioè se io se io in barca devo andare da un palazzo all'altro con calma eccetera ci sta che che ci sono una strofa due strofe tre strofe cioè la voglia di sentire raccontare una volta cioè è un po' come alcune litanie paraliturgiche che duravano cioè il rosario diventava la storia di Gesù Cristo diventava hai capito una storia che durava un'ora e mezza perché magari dovevano andare a piedi a messa e per partire da un po' da casa fino a un'ora e mezza cioè alla voglia che alla fine ora che arrivavano adesso questo tempo è improponibile difatti come portare oggi questi canti con una come dire con un tempo giusto quindi anche qui è stato fatto un lavoro anche perché non c'è assagnata la velocità del brano ah beh certo certo quindi ho dovuto a gusto mio farmi fare rendere mie queste queste melodie quindi ho passeggiato per Venezia per le Calle ho cercato di capire i suoni e di capire come queste cantanti potevano cantare guardando le immagini dei quadri del canaletto del guardi eccetera e e ho restituito questa immagine dal mio punto di vista più semplice più verace più diretta questa cosa sono molto contenta perché questa modalità è piaciuta molto ai veneziani e mi hanno restituito proprio questo aspetto anche quindi che arrivano facili arrivano la mia necessità profonda era che tutto questo però diventasse una sorta potesse anche essere divulgativa questa operazione che potesse anche invogliare chiunque a riprendere in mano questi canti e difatti nella restituzione di questo canto è nato questo doppio CD book che è stato stampato poi dall'editore Walter Colle edizioni nota che è un editore che si occupa prevalentemente di tutte le ricerche etnomusicologiche di tutti gli artisti e del folk revival e anche delle musiche più particolari di tutte le regioni italiane quindi è una collana che vi invito ad andare a vedere perché è straordinaria senza altro tutto il canto sociale il canto politico diciamo è nelle sue mani e questi abbiamo voluto fare all'interno anche un libricino con tutti gli spartiti riscritti con i testi per come sono stati cantati e anche gli accordi gli accordi di chitarra il canzoniere contemporaneo gli accordi di chitarra sia con il capotasto che uso io perché io uso anche il capotasto sulla mia tonalità o se invece si vuole senza capotasto eccetera quindi per me il valore grande era che una persona potesse capire la melodia con me suonatelo come vuoi ed è stata in parte anche riuscita questa operazione perché ho avuto dei rimandi anche da dei gondolieri e da dei cantanti in gondola che sull'onda di questa cosa qua hanno ricominciato a cantare alcune melodie ma questo è già il premio più grande quindi hanno ricominciato a cantare delle melodie hanno cominciato a suonarle perché diventava facile cioè hanno dovuto hanno passato un po' tutto quel percorso eccetera restituire la musica poi mi è capitato appunto di fare questi questi canti anche in barca a Venezia durante i freschi nelle piazze eccetera e il messaggio è che il testo comprendendo anche la natura del testo arriva proprio un quadro un affresco della venezianità non è solo uno che ti canta una canzone veneziana certo ti arriva un affresco delle immagini canti amorosi serenate ma anche descrizioni di vita quotidiana baruffe fra magari la parrucchiera e la sarta quindi sono anche dei contrasti insomma e poi anche ci sono dei brani che descrivono anche ambienti come il teatro che poi magari ve ne canto uno che in particolar modo descrive questa scena dove questa persona entra a teatro va nel palchetto trova questa signora meravigliosa questa fa finta di svenire di la soccorre e poi insomma si accorge che in realtà era tutto una scena per farsi avvicinare oppure non so si intravede quanto fossero in qualche modo vezzeggiate corteggiate queste cortigiane veneziane queste nobildonne che erano viziatissime si facevano regalare di tutto e c'erano questi spasimanti che non ne potevano più di accontentare queste donne insomma quindi oppure figure come diciamo lo squaltrinato di turno che comunque vuole godersi la vita un po' l'arlecchino quindi tante tante micro storie micro immagini come ad esempio per cantare queste canzonette che è questa magari ve la posso anche cantare ma certo ma assolutamente che mi piace perché è l'unica canzone che abbiamo trovato che cita testualmente proprio i canti da battello allora per cantare queste canzoni per cantare queste canzonette che costuma da battello vu sei l'unica credeo e giustizia ognuno vi fa si riferisce si rivolge a una cantante dice per cantare queste canzoni voi siete l'unica la più brava in assoluto ogni volta che mi imbatto ogni volta che vi vedo a cantare queste canzoni siete ben dentro del balcone siete sul balcone no e io rimango incantato ad ascoltare le vostre le vostre canzoni quella osetta quella voce non ve burlo non vi prendo in giro è un campanello d'argento è d'argento un campaneo un soprano un soprano simile a quello vuoi scommettere che non c'è avete un trilo che consola avete un trilo che consola propriamente il coresin e avete un certo gustesin che chi ascolta li coppè ma che bellezza per cantare queste canzoni e te che costuma da bateo busse l'unica credeo e giustizia ognun ve fa ogni volta che mi imbatto che canta e qua qualche canzon si vendrì entro del balcone qua attenzione stago in canta stago in canta qua attenzione stago in canta qui quella osetta nove burlo se dar sento un campaneo un sopransi mia queo vuoi scommettere perché null che ave un trilo che consola propriamente il core si e ave un ser ad augusti che chi ascolta li coppè li coppè che chi ascolta li coppè un piccolo assaggio allora voi sentite che queste canzoni giustamente all'epoca nel settecento c'era questa mania del trillo ecco tutte queste cose qua addirittura Benedetto Marcello si lamenta e scrive proprio che queste cantanti sono in delirio con questi trilli non ascoltano neanche il direttore d'orchestra si inventano di tutto poi se sono le prime voci i primi cantanti le prime donne arrivano con la mamma gli dicono che ha male alla gola non canta più non prova più non vuole tutto il principismo proprio ecco per cui voi capite bene che non avendo una voce non utilizzando una voce lirica sono difficili da fare i melismi perché il diaframma lavora in maniera diversa quindi ho dovuto fare un grosso lavoro per riuscire a rendere assolutamente naturale questa cosa come probabilmente lo era come lo era e soprattutto dovete pensare che i testi la prima strofa viene scritta esattamente così ma non vengono descritte come vengono appoggiate le vocali per cui se io dico per cantare ste canzone te canzone quindi potevo anche dire per cantare ste canzone te canzone qual è quello vero? certo qual era quello vero? chi lo sa? ne ho discusso appunto sia con Guglielmo che con la Paola e abbiamo scelto anche le frasi perché alcune erano anche difficili da capire come loro secondo me erano molto liberi certo certo è un po' come quello che succede con la commedia dell'arte che stanno tutti là gli accademici i professoroni a discutere su Sarlechino faceva così o Brighella faceva quella ma guarda avrà fatto ognuno degli attori come calcoli pareva come li funzionava come riusciva a fare come riusciva e anche ognuno aveva il suo stile assolutamente per cui poteva essere più piacevole ascoltare uno piuttosto che l'altro vi faccio un esempio adesso questo ad esempio è un canto dove c'è questo insegnante che insegna ballo all'epoca ovviamente le nobile donne dovevano prendere lezioni di ballo e allora vi faccio sentire una strofa solo perché ci sono due versioni di questa con lo stesso testo e questo insegnante di ballo si capisce si evince insomma che ha per le mani una ballerina che proprio non ci sia fa tanta fatica per cui fa quello che può insomma no? quindi madame carissima la lezione e franca subito vuoi vien danse datevi animo che vi certifico che vi certifico che riuscirei Stesso testo, cambia la melodia E qua si capisce il perché, bellissimo, tu dici che sono così importanti anche i testi perché evidentemente da lì che nasce l'interpretazione, nel senso che la prima che hai fatto risulta molto più ironica e la seconda molto più accompagnata e dolce e stupenda entrambe Poi c'è una teatralità tremenda questa musica Ma guarda, questa teatralità l'ho in qualche modo scovata dentro di me L'ho riconquistata pensando così a tutte le persone che ho incontrato nella Comedia dell'Arte gli attori con cui ho lavorato e quindi anche conoscendo la venezianità io penso che questo fosse lo spirito Io penso che questo fosse lo spirito E me l'hanno anche restituito Però credo che per chi fa l'impostazione lirica a volte ci riesce, a volte meno Alcuni ci riescono Però diciamo che se tu ti metti a farlo in maniera ingessata Quindi, e già non capisci niente di quello che dici, capisci bene che Perde tutta la... Madame carissima l'Alessione Cioè, ok Ma anche perché non sono i testi Eh no, appunto c'è dentro talmente dell'ironia La musica lirica è meravigliosa ma ha bisogno dei suoi temi Ha bisogno dei suoi testi, dei suoi contesti Ma soprattutto questa è una forzatura rispetto a un genere che non era così Sì, infatti E quindi ci sono poi testi che parlano ad esempio anche delle mercanzie Che a Venezia c'è il mercante armeno, no? Quindi ci sono addirittura testi in francese, in tedesco, in finto tedesco Dove ci sono questi... Perché una volta Venezia era ovviamente l'ombelico del mondo Era un incrocio, un crocevia di... E quindi tra i vari, diciamo, ambulanti Abbiamo incrociato questo D'Armenia Venira Che è questo mercante che viene dall'Armenia Ma la cosa che mi piaceva, mi piace molto È l'elencazione delle mercanzie che lui vende Allora abbiamo D'Armenia Venira e Stara Mercanta Sono mercanti che vengono dall'Armenia De gioia tenira in quantità tanta Quindi tiene dei gioielli Aver tela indiana Porcellana... De cina porcellana Porcellana di cina Diamanta, rubina, smeralda, topazza, diaspra, turchina e pietra paunazza Perla orientale, ambra Nigra e ancasala Capite cosa c'era a Venezia? Di palma mia vita D'Armenia Venira e Stara Mercanta De gioia tenira in quantità tanta E a vertela indiana De cina porcellana Chi voler comprare Chi voler comprare Diamanta e rubina Smeralda e topazza Diaspra e turchina E pietra paunazza Con perla orientale Ambra, nigra e ancasala Chi voler comprare Chi voler comprare Cioè le piazze Pullulavano di mercanti Che con i loro gridi Con le grida Si contendevano Le persone che passavano Per cui era una guerra Hai capito? A chi E' la guerra del mercato E quindi c'è Una canzone dedicata Al pasticcere Una al fioraio Una allo spazzacamino Una alla Alla rotino E tutte delle storie Anche importanti Dietro E vi canto Adesso questa Eccolo qua Questo qua Che vi dicevo dell'opera No? Si Mi è nato un caso Sta senza all'opera Allora La senza E' la festa La festa Della Dell'ascensione Che si fa A Venezia A fine maggio E si chiamava La festa della senza Quindi mi è nato un caso Mi è successa una cosa Il giorno proprio Della ascensione All'opera Che voglio A tutti raccontar Ciaro In modo chiaro Mentre Che attento Stavo alla musica Mentre stavo attento Alla musica Da una persona Mi sento urtar Mi volto presto Vedo una maschera Ma ben tapada Bel personal Sapete che nel settecento Curioso dico Cosa comande La dice Agiuto Agiuto Che mi viene mal Presto Presto Un palchetto Provedo subito La incoraggisso La incoraggio E dentro Viene Dentro al palchetto Si siede Con la sessenta Quando si siede La sede smaschera E vedo Un visetto Bello E sereno Ecco Questa è una parte Di una canzone Molto lunga Che in realtà Alla fine Non si capisce Gli uli regali Addirittura Un orologio Non si è capito Non si è capito Però vedete Com'è Com'è già Un'immagine Veramente Da 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 Commedia dell'arte Voi vi immaginate Il momento del teatro Questa Donna Che uscivano Tappate In maniera Costa maschera Hai capito Che si nascondevano M'è nato un caso Sta senza L'opera Che il vuogio A tutti Ci harò contare Che il vuogio A tutti Ci harò contare Ci harò contare Mentre che attento Stava la musica Da una persona Mi sento urtar Mi sento urtar Mi volto presto Vedo una maschera Ma ben Tappada Bel personal Ma ben Tappada Bel personal Bel personal Curioso Dico Cosa Comande La dice A giuto Che ne Vien Mal Che Mi Vien Mal Che Mi Vien Mal Presto Un palchetto Provedo Subito La Incoragisso Drentola Vien La Incoragisso Drentola Vien Drentola Vien 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 esperto di musica antica, anche lui di esperto di canti da battello, che è il presidente della scuola di musica antica di Venezia e con Domenico Santaniello che ha curato anche la parte del violoncello che c'è nel CD, un approccio che abbiamo usato contemporaneo, sempre in punta di piedi, lui è un jazzista tra l'altro ed è napoletano, diciamo campano, quindi ha messo tutta la sua sensibilità anche trasversale, mettendo in punta di piedi questo violoncello. Però io ho cercato negli arrangiamenti che ho creato io, tutti io, anche la registrazione l'ho fatta io nel mio piccolo studio, e quindi anche perché ho potuto, registrando in casa, ho potuto darmi tutto il tempo per poter fare questo progetto, per il quale ci ho messo cinque anni di lavoro, perché imparare 42 canti, farli tuoi, non confonderti con gli accordi, con gli melismi, con tutte le cose, insomma è stato veramente un lavoro grande e per sentirli anche con naturalezza, perché non c'è niente di peggio di far arrivare qualcosa di questo tipo con la fatica, che tu senti che uno fa fatica, no? Come nella danza, uno fa quello che vuole, ma se vedi la fatica ha già finito. Quindi la scommessa grande è stata di mettere pochi strumenti, quindi ho usato una chitarra battente, la mandola, la chitarra, ho messo qualche tamburello, qualche coro, doppie voci e nelle doppie voci ho anche avuto il contributo di Catherine Robin, che è questa cantante francese, che mi ha anche cantato dei canti in francese, con voce sopranile, no, da contralto lei mi sembra, sì, e poi anche Elida Bellon, che appunto mi hanno aiutato a fare i cori in certi passaggi. C'è anche la voce di Eleonora Fuser, un'attrice veneziana, da anni si è occupata di commedia dell'arte da sempre, lei è una delle più autorevoli forse che abbiamo in zona. Quindi si nutre un po' di questa venezianità trasversale, questo progetto. Ha collaborato anche così, diciamo, per la produzione proprio, il Artemide Teatro, con Chiara Stella Saravalle, la sua presidente, che ha sostenuto questo progetto e con lei facciamo anche una restituzione sempre di Cantar Venezia, però con lei che fa, diciamo, la parte della servetta in uno spettacolo che si chiama 700 Pop, dove io faccio la parte del gondoliere che fa un po' il jukebox, diciamo, di questi canti e la servetta che dalla finestra si stanca, dice ma sempre questa musica, basta, basta, ecco. Quindi è stata la volontà di restituire questi canti anche in forma così, diciamo, di contemporanea. Certo. Un'altra cosa che vi volevo dire è che, beh, si può trovare in tutte le piattaforme, ovviamente, questo lavoro, ma l'idea è quella che sarebbe bello che si nutrisse di tutte le arti, cioè affiancandolo alla visione dei quadri, affiancandolo alla vista di un museo e a tal proposito abbiamo fatto anche al Museo Goldoni di Venezia proprio una presentazione. È stato magnifico perché essere in quella cornice dove c'è anche un suo teatro antico dentro, sembrava di respirare proprio quel momento, insomma, quel tempo. Sì, anche perché l'arte di fatto bisogna un po' prenderla così. Cioè, la scultura da sé, la pittura da sé, la musica da sé sono belle, ma sono veramente magiche e miracolose quando si possono combinare. È un po' l'esperienza meravigliosa che stiamo facendo con questo viaggio di Goethe, che arrivi a un posto e se vuoi veramente seguire le sue tracce devi combinare la storia con la musica, con la pittura, con la scultura, l'architettura e questo è un viaggio veramente meraviglioso, è veramente bello. Ma anche, secondo me, questo è un progetto in bilico fra il colto e il popolare, perché io ho dato questo imprinting e la mia paura era che fosse addirittura molto criticato dagli ambienti colti e che non potesse essere compreso l'ambiente popolare. Quindi, proprio perché è proprio in bilico, è una restituzione. Di fatto poi, in realtà, questo progetto, sono molto contenta perché ha vinto il premio Loano, un premio nazionale per la musica tradizionale italiana, che è rappresentato da una giuria di oltre 60 giornalisti, insomma, dove è stato premiato proprio questa restituzione contemporanea, però con uno sguardo in punta di piedi, cioè senza tradire l'essenza profonda del lavoro. E quindi mi ha dato un po' ragione questa cosa. Anche se devo dire che c'è ancora molta miopia nel tentativo di portare proprio in concerto questo spettacolo, non mi è facile. Nonostante ci siano pullulare di ville venete e di... Infatti di cornici che sarebbero... Sì, ma questo spettacolo siete in quanti? Siamo in tre. Siete in tre. A volte anche con Chiara Stelle e Saravalle, che farebbe la parte, diciamo, di Comedia dell'Arte. Quindi, però, non è semplice far capire... Diciamo che qui c'è un automatismo, che è quella di collegare qualsiasi progetto a Vivaldi, alla Villa Veneta, ai Solisti Veneti, a questo mondo, che è peraltro molto importante, e molto unico. Sì, ma sono percorsi già battuti. Però, diciamo che questa cosa che è in bilico fra il colto e il popolare è stata... Ho avuto, diciamo, più riscontri all'estero che... Pensa a te. Addirittura non ho qui da mostrarvi un cd che ha fatto un tenore austriaco per quello che ci siamo sentiti. Gli ho mandato degli spartiti, ha voluto ascoltare il mio lavoro. Poi lui l'ha restituito in forma invece, diciamo, di musica proprio con l'orchestra. Però ha trovato questo modo anche lui di interpretare, pur essendo, diciamo, con una lingua tedesca, tra le lingue, è stato bravissimo perché è riuscito proprio a restituire questa freschezza. Poi magari vi lascio il nome. Mi sfuggi in questo momento. Lo troverete nella descrizione. Ho il cd molto bello che ha fatto proprio dedicato anche lui a questo repertorio, insomma. Quindi è molto più seguito all'estero che non da... Ultimamente c'è stato un po' di più interesse, anche dopo a Grazia, anche a questo lavoro. Però c'è, diciamo, ancora si fatica ad integrarlo come pratica, ad esempio anche nelle gondole. C'è tutto un discorso anche lì importante sul fatto del repertorio che viene cantato in gondola. Per cui il gondoliere, che giustamente alle persone che pagano, fa fatica a imporre un repertorio se la persona che ha pagato chiede o solo è mio. Certo. O chiede, capito... Ecco. Per cui c'è un grande casino. Cioè, da un lato va bene che si canti ciò che si vuole. Però io mi dico, ma se almeno il 25% del repertorio fosse dedicato... Non dico, canta anche solo è mio, ma sappi che... Abbiamo incontrato l'associazione dei musicisti in gondola. Abbiamo parlato a lungo con loro, ho parlato con i gondolieri. E il problema non è facilmente risolvibile, insomma, purtroppo. Seppure potrebbe essere un vanto dire Monte in gondola e ascolti le canzoni che sono nate per questa cosa qua. Si preferisce, capito, mercificare anche lì. Purtroppo è quello che troviamo un po'. Insomma, ne abbiamo parlato durante questa stagione. È quello che si trova un po' dappertutto. Cioè, appunto, seguendo io, dal lago di Garda, a Verona, ovunque. Cioè, a Verona abbiamo la gente che va a vedere il balcone di Giulietta. Che non esiste. Non esiste. Non esiste. Ma lì si è creato un bisogno. Cioè, c'è bisogno di andare là a definire che c'è un punto dell'amore dove tu puoi lasciare un segno. È quello che tu dici, che secondo me è una delle cose più interessanti, ce ne sono moltissime evidentemente nel tuo lavoro, ma è il fatto che tu riesci, e è la passione che te lo fa fare, appunto, a essere questo, in un certo senso, intermediario tra il popolare e qualcosa di colto. Che è, secondo noi, anche per noi il teatro, poi alla fine la ricerca che uno fa è quella. Cioè, nel senso, se noi facciamo il teatro solo per quelli che già ci vanno, in un certo senso, evidentemente, ti rinchiudi in una nicchia che poi diventa autoreferenziale. Quindi, il tentativo sempre di portare la musica, come nel tuo caso, verso, appunto, tutti quelli che non lo sanno che c'è questo patrimonio e che è bellissimo e che gli appartiene, evidentemente è una strada difficile, però risulta sempre quella, purtroppo, che viene snobbata tanto dall'alto come dal basso, perché bisogna riconoscerlo che... Sì, anche perché io non penso, io non ho mai avuto, nei miei progetti, pure essendo un progetto molto di nicchia e, vabbè, di ricerca, però se io devo pensare al pubblico, qualunque sia stato, cioè, io non ho mai avuto problemi col pubblico. Certo, certo. Ma di solito il problema non è mai col pubblico. Cioè, non ho mai avuto problemi, neanche con i progetti più difficili, non ho mai avuto problemi, qualora c'è stata la possibilità di poter arrivare al pubblico, più eterogeneo, più svariato, non ho mai avuto difficoltà. Ma questo è vero, noi ci è capitato con alcuni spettacoli che il pubblico l'apprezza moltissimo, dopo i programmatori dicono, eh, ma bellissimo, ma un po' uno spettacolo un po' troppo forte per il mio pubblico. Noi dicono, ma che pregiudizio abbiamo nei confronti del pubblico? Dopo quando vai da qualche parte a fare uno spettacolo... Diciamo che il distributtore, comunque, chi fa programmazione vive sempre l'incertezza dell'esposizione economica, per cui non sa mai, deve fare entrare i conti, deve... E non c'è grande margine di rischio, a meno che non siano proprio delle elementi illuminate. E quindi è veramente complicato, cioè, bisogna che uno ti abbia visto, abbia capito, però se tu non mi fai... Se tu avessi 20 date, allora... Allora sì, perché ne hai 20, non perché fai questo. Eh, sì, 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 è vero. Sono discorsi che possiamo capire, no? Eh, sì. Invece, se tu arrivi al pubblico, io non ho mai avuto problemi, anche questo repertorio che a piace tantissimo. Certo. E tutti mi ringraziano, come dire, grazie di esistere con questa cosa, no? E io vedo che nel tempo... Cioè, diciamo che il fatto che voi siete arrivati a me in questo momento, con questa... E come altre situazioni sono arrivate, a chiedermi di questo progetto, e la dice lunga anche sulla sua necessità. Eh, assolutamente. Perché quando uno va a cercare qualcosa che sia veramente un gioiello, che tu dici, esiste un repertorio che è un gioiello, io sto cercando gioielli perché sono stanca dell'omologazione. È vero. Comincia a cercare, comincia a cercare. E se non trova niente, è drammatico. È vero, è vero. Cioè, è drammatico. E dici, ma ci sarà pure un gioiello da qualche parte, no? Cioè, lo troverò qualcosa che abbia un sapore di... di una ricerca autentica, di una necessità, no? Certo. E quindi è questo un po', insomma... Insomma, noi possiamo dire che il gioiello l'abbiamo trovato. E siamo contentissimi. L'abbiamo tutti trovati qua. Infatti. E poi, appunto, questo gioiello è stato un grande incontro che non ha fatto altro che cominciare adesso. perché infatti noi invitiamo a tutti i nostri ascoltatori veramente a esplorare il lavoro di Rachele Colomo perché, fidatevi, è veramente un percorso di scoperte. Noi siamo arrivati attraverso questo lavoro e dopo abbiamo scoperto delle altre cose veramente meravigliose che per questione di tempo non ne possiamo parlare di tutto. Noi terremo qua a Rachele delle ore a parlarci. Ma possiamo fare altre puntate. È un po' complesso. Se poi ci addentriamo anche in altri ambienti come tutto il mio impegno nel mondo del movimento delle donne. Il femminile è una parte importante. Anche l'area bambini, per cui ho scritto colonne sonale per teatro ragazzi per molti anni oppure canzone d'autore, canto sociale, canto popolare. Insomma, vabbè dai, sono questi i miei filoni comunque su cui mi muovo. Ma sono tanti, sono tutti veramente interessanti perché non sono percorsi semplicemente eclettici e banali nella loro ecletticità. No, sono veramente percorsi fatti con una necessità, con un senso profondo e questo lo si sente quando si ascolta la tua musica. Sai, il discorso del mondo così delle donne e della femminilità come espressione artistica per me è un tema quasi di un impegno, di una responsabilità come la musica della mia terra. Perché credo che, io dico sempre questo, cioè ci sono moltissime donne nel mondo che non solo non possono fare la propria arte ma non hanno neanche il diritto di esistere. Eh, infatti. Ci sono donne che a fatica si conquistano piccoli spazi. La storia delle donne è quella che deve ancora essere raccontata. Ci sono pagine omesse nei libri di storia. E quindi è una responsabilità anche come testimonianza di poter essere qui ad essere un artista anche a fare dei progetti come questo in un mondo profondamente maschile come il mondo della musica colta. Certo. Quindi, è già, se uno la vuole vedere profondamente è la mia resistenza in qualche modo. e anche nel fare progetti dove metti in evidenza anche storie di donne importanti. Un'altra visita volante. Un'altra visita della fauna locale. Ma sì, dai, ci sta un bicchier di vino, no? Ah, sì. Ma certo. Assolutamente. Ecco qua. Sì, che meraviglia. Ma guarda che meraviglia. È perché il Veneto è sempre il Veneto. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Alla salute. Allora, viva, viva. Eh sì. Quindi, ci sta. Eh sì. Quindi, anche il discorso comunque sia dell'espressione femminile artistica? Sì, a me è colpito molto. Poi adesso, sì, non ci potremmo troppo dedichiarlo a parlare di questo. Chissà, forse un giorno facciamo un'altra puntata su questo. Ma a me è colpito molto. E il tuo lavoro sul femminile. Soprattutto perché non è, neanche in questo caso, il solito lavoro sul femminile. No. Nel senso che... Ti tieni conto che ho fatto un disco come Bamboli Offline, come uno spettacolo, che però è uscito nel... Abbiamo cominciato nel 2008-2009 noi a farlo. Quando qui in Italia poco si parlava di femminicidio. Tra l'altro, non so se avete visto su YouTube il mio racconto cantato. ci sono sei puntate. Ah no, questa non l'abbiamo vista. Che io ho fatto dedicate ai due puntate per ogni... Ho fatto proprio durante questo periodo, da gennaio. una dedicata al disco, al progetto Archedora. Cioè, ho fatto dal 2000 in poi praticamente. Abbiamo fatto due puntate dedicate alla storia del disco, al primo disco di Archedora, poi al secondo disco Descalzo e a maggio, a marzo scusate, durante il Mese delle Donne, ho fatto due puntate dedicate proprio alla storia dello spettacolo e del disco Bamboli offline, intervistando il regista, la danzatrice con cui ho lavorato, insomma, guardatelo. Ah sì, senz'altro. Quindi è interessante, capisci un po' tutto, insomma. Però ti ripeto, l'abbiamo fatto in tempi sempre... Perché io ho sempre questa mania di... I miei progetti arrivano prima, non lo so come mai. Quindi, infatti siamo qui... Questa cosa è uscita nel 2016 e siamo nel 2021 qui a parlarne. Infatti, infatti. Le cose belle non vogliono. Nel 17 è stata promosso, per cui anche quel lavoro all'epoca, quando cercavamo di venderlo nei comuni, era troppo forte, era troppo scomodo. In alcuni posti mi dicevano anche, ma guardi che da noi non esiste questa cosa. Ah, certo. In altre parti, sì, ma da noi non c'è questa cosa. E per ritrovarci dopo, hai capito, dieci anni e più che siamo all'anno zero in Italia, poi non so in Spagna, ma qui è un disastro. Sì, purtroppo è una vera pandemia questa. Cioè, 75% in più di chiamate ai centri antiviolenza durante il lockdown. Sì, sì, sì. È purtroppo una realtà tremenda e tragica e quindi anche chi si prende l'impegno e la responsabilità sociale di dare un po' di bellezza e di sublimazione all'interno di questa tragedia merita un ringraziamento da parte di tutti. Quindi noi per questo ti siamo grati, ti siamo grati anche per questo meraviglioso lavoro. Non abbiamo parole, veramente. Veramente. E io invece voglio conoscere meglio il vostro di lavoro. Perché ho visto alcune cose in internet, ma vorrei vedere anche uno spettacolo magari. Speriamo presto si riaprano. E anche auguri per tutta la vostra voglia di ricercare e di portare contenuti che però attraversano il mondo. Perché io attraverso il mondo, partendo dalla mia terra, e questo mi ha dato la possibilità di esplorare il mondo, portando questa musica in America, insomma, in Canada, in Europa, eccetera. Però la responsabilità a volte è pesante di rappresentare sempre. Certo. In certi momenti senti proprio la voglia di liberarti, di uscire da questa cosa. Anche perché se non vedi che intorno c'è un'attenzione, ti senti sempre, in certi momenti sei bacilli, no? E quindi mi piace molto questa cosa, in tutto sommato anche la vostra libertà di poter essere ancorati a tutto e a niente. Cioè a seconda di dove la necessità interiore ti porta e ti chiama secondo i vostri valori, ti porta a esplorare. E poi c'è questa cosa della maschera che ci unisce in qualche modo. Perché io sono profondamente anche attenta, interessata a questi aspetti anche dell'umano, no? Che la maschera in qualche modo riesce a cristallizzare però in maniera viva. Cioè è come se riuscisse a fermare, fotografare, non l'immagine esterna come un selfie, ma l'immagine profonda di quel personaggio. Brava, è vero, è vero. E al tempo stesso lo rende vivo, non è morto. Mentre una fotografia è morta. Lo rende vivo e quindi indagare l'umano è ispirante, ti ispira perché è trasversale all'età ed ha importanza. In un'epoca in cui tutti dobbiamo essere giovani, giovanilisti, pimpanti e quindi quando c'è la caduta, la caduta poi la devi nascondere e devi sparire al più presto perché basta. Non c'è modo di osservare la faccia profonda dell'umano, non c'è più modo di vederla. Molto vero questo, molto vero. Questo è vero. Perché tutto diventa plastificato. Non vogliamo più vederlo, abbiamo appunto votato tutto al positivo in un certo senso, il negativo che è il contraltare del positivo non lo vogliamo e quindi appiattiamo. E' prescindibile per il positivo, il positivo non esiste senza il negativo, ma ci siamo quelli della resistenza, quelli che difendiamo la bellezza perché la bellezza esiste, ci vuole anche la bruttezza. Assolutamente. E quindi siamo tanti. E la bruttezza alimenta, alimenta, anche perché la perfezione annoia, perfezione annoia. Assolutamente. Quindi noi siamo per, perché appunto anche vedere, essere testimoni di questo tempo dove tutto viene nascosto, dove ogni verità viene nascosta in virtù di una verità collettiva che fondamentalmente si esprime nella lamentela, senza sfumatura, no? Sì. E la verità interiore di ciascuno è difficile capirla, perché poi adesso ci si esprime molto con le parole degli altri. Sì, certo. Eh sì. Se uno va a prendersi la bella poesia di qualcun altro, non mi fa capire chi sei. Capisco che è una bella poesia. Eh sì. Capisco con chi ti identifica. Capisco che tu ti identifichi e che tu usi quella cosa per dire delle cose, ma se tu pensi a quanto ci ha messo la persona a scrivere quella poesia, non tanto in termini di tempo, perché potrebbero essere tre anni come tre secondi, ma è il vissuto che c'è dentro. Certo, certo. Per arrivare a quella sintesi, per portarti lì, tu non puoi bruciarla in tre secondi. Tu mi fai una poesia, il giorno dopo me ne fai un'altra. Certo. Eh sì. Sì, sì, sì. Io non capisco chi sei. È un'idea di consumo. Certo. È proprio un'idea di bruciare. E qua ci entra dentro tutto. C'è questo desiderio di consumo, questo modo anche di amare che a un certo punto poco ha a che fare con l'amore. Quindi sono anche questi temi importanti. Comunque, vabbè, noi siamo dei viandanti. Eh sì. Positivamente disadattati. Brava. Diversamente abili. Brava, brava. Per anni mi sono definita una musicista diversamente abile. Eh eh. E quindi sono così, dai. Bravissima. Beh, sono. Grazie. Grazie a chi vuole. Grazie mille. Grazie mille. E questa puntata che è diventata un po' più lunga del previsto. Beh, ma con che gusto però. Sarà diventata tre volte tanto perché. E la chiudiamo con la solita frase della Cispa di Prometeo da Cecilia Scrittori. Vi auguriamo giorni con molte scintille e fuochi meravigliosi. Mi unisco. Fuochi e scintille. Brava. Ciao. 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 Ciao.